Casottone dei Nani, riserva di caccia, provincia di Lodi. Fermo lì, seduto. Via. Grazie. Grazie. Cerca, cerca. Cerca la tors. Cerca. 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 Dio? Ah, ecco perché. Eh, ma sarà sulla sponda o no? Speri. Certo, cerco. Cerca di merda. Toca fatta con senso però, eh. Ah, no, no, c'è un passione. Merda. Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! bravi bravo nolli bravo nolli bravo nolli bravo nolli guari bravo nolli ma per lì qua qua l'oliver è seduto qua l'oliver è seduto l'oliver seduto qua seduto bene bravo mi aspettai aspettai perché devo dire un po' per te aspettai grazie Vieni, vieni Oliver, vieni Oliver, 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 qua a me, qua da me, qua a me, qua a me, qua vicino, bravo, seduto l'oltre. C'è il mur Michel Oliver. Ah, fin d'auli, la chapa. La chapa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.